ticuttico 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 buff 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 questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeapoda oggi in particolare vi voglio far vedere tutti gli step di skin care che uso per ottenere la famosissima glass skin coreana quindi una pelle bella idratata e luminosa e ovviamente lo farò con i prodotti Iepoda la base per la glass skin è la doppia detersione io la faccio con due prodotti che adesso andrò a usare il primo è The Calm Balm che è il prodotto per la detersione oleosa come vedete lo uso tantissimo che mi permette di rimuovere tutto lo sporco che si accumula anche d'estate con sudore, crema solare, tutto lo sporco che ci si appiccica addosso è fondamentale detersersi la pelle al meglio doppia detersione con questo e con la mousse The Bubble Double anche questa come vedete la uso tanto 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 con la doppia pulizia andiamo a fare un'esfoliazione contro i punti neri e i buri per una pelle impeccabile questo tonico da un'idratazione istantanea perché contiene acido iarulonico permette di avere un'esfolia il siero reperiero rende la pelle uniforme e luminosa perché contiene anche probiotici oltre agniacinamide quindi serve per rendere la pelle radiosa e luminosa The Make My Day Cream contiene gita venuta dalle tigri per curare le ferite e serve per riparare la pelle danneggiata il vero segreto della glass skin è mettere questo stile alla fine che si chiama The Glow Hero che andrà proprio a rendere la vostra pelle bella, luminosa, idratata, sanissima uno, due e lo vado a tamponare questo prodotto volendo potete aggiungerlo anche alla crema miso di Make My Day per renderla ancora più idratante se avete bisogno magari dopo una giornata al sole di avere un po' più di idratazione io spero davvero che questi prodotti vi abbiano incuriosito e che vi piaccia l'effetto della glass skin mi piace tantissimo io vi lascio il link di Yeppuda qui giù in descrizione vi ringrazio ancora Yeppuda per aver sponsorizzato questo video e ora passiamo al video ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 oggi, oggi 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 oggi, voglio portarvi un video di a new shot, a new shot, a new shot, a new shirt mouth sounds quindi sto parlando di don't click di un po' di n'audible e sapete che a me a parte l'inaudible piace farle tutti mixate quindi non ci sarà un momento tico tico, un momento puff ci saranno un pochino comunque mescolati per loro mi dispiace sia per la sfonda che nelis insieme quindi non vedete il microfono bene sia per il microfono in mano, sono a casa mia io ho fatto il traslogo dello studio, diciamo così per girare due o tre video un po' più fresco quindi mi sono dimenticato un cavalletto e le luci andando con il wifi non vanno qui ci saranno anche dei visual trigger però se vuoi vogliamo anche chiedere gli occhi chiedere gli occhi stupendi chiudere, 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 chiudere gli occhi chiudi, 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 chiudi gli occhi chiudi gli occhi, chiudi gli occhi chiudi gli occhi e semplicemente ascoltare questi massage la scelta è solo tua che è importante che tu riesca a prenderti questi minuti per te per te per te per te per te altra cosa prima di cominciare altre due cose la prima è se questo video ti piacerà ricorda di mettere un mi piace lasciando un commentino di supporto la seconda è che come starei notando ma lo ripeto in ogni video perché continuate un po' a scrivermi ad agosto usciranno appunto solo video di lunedì al posto che lunedì è giovedì poi a settembre ricominciano la solita programmazione del lunedì e giovedì è una cosa che ho fatto da un paio di anni e questo è il terzo anno mi sto trovando molto bene mi permette anche di ricaricarmi e comunque i video escono quindi non vi lascio senza non vi preoccupate ok? fammi avvicinare fammi vedere un po' il riso ok? 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 ok Sì un bel 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 no blac 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 bl Pluck, pluck, zuck, 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 zuck Sì, sì, sì dal l'via dal l'via dal l'via dal l'via dal l'via vincolo vi voglio un pollo vincolo vincolo Sì, sì, sì. Ticca 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 r Tou 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 Me avvicino, me avvicino me avvicino Uff Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 sweet dreams buonass tu te sueño 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 buon noi buon 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 noi buon noi vete giochi suu buon noi suu 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 il canostro, il canostro, il canostro dai piccoli pasticcini al caffè un bacione che li spero